Ciao leggine, ciao leggini, andiamo a vedere che cosa ci attende per la settimana che sta per iniziare mentre io mischio, se non sei iscritto al canale youtube delle leggi della magia fallo subito se questo video ti piacerà regalaci un like come al solito, facciamo la lettura con i miei tre oracoli l'oracolo dei registri acascici, l'oracolo delle leggi universali, l'oracolo dei decreti quotidiani e presto! Tra qualche mese il tempo di farlo proprio nascere materialmente ma è tutto pronto uscirà il nuovo oracolo, vedo l'ora di farvelo conoscere, che bello va, lo adoro, già lo adoro e sono certa che vi piacerà anche a voi, non vi dico niente quindi non mi iscrivete, dai dai dacci notizie ve le darò a tempo debito e non è adesso, appena saremo più in là vi do qualche spoiler ok andiamo a prendere, tu chiudi gli occhi, distinto 1, 2 o 3 scegli il mazzetto che fa per te se avevi scelto il mazzetto numero 1, questa settimana sarà una settimana di presa di consapevolezza la consapevolezza è un'arma potentissima che abbiamo quando prima di incarnarti sei salita sulla scacchiera, i maestri ci tengono a dire che la scacchiera non è un luogo di immaginazione ma è un luogo reale sulla scacchiera tu hai deciso quali sarebbero state potenzialmente parlando le esperienze che dovevi fare al fine di arrivare ad evolverti e arrivare ad avere determinate conoscenze che arriveranno proprio questa settimana queste conoscenze guarda un po' sono legate al karma quindi questa settimana preparati perché ci saranno delle concatenazioni tali che tu dirai cavolo, quando dirai cavolo quando ti renderai conto con qualcosa che è già successo con qualcosa che mamma mia pensavi di aver risolto invece sta ancora lì, insomma prendi consapevolezza ti basterà quasi chiudere gli occhi e vedere la perfezione del ciclo che si ripete affinché tu ne prenda conoscenza e sei pronta finalmente a sciogliere un nodo è il momento giusto, settimana preziosa sciogliere i nodi karmici in questo momento è oro noi prendiamo il piombo e lo trasformiamo in oro mai come adesso a livello cosmico o almeno magari proprio in altre ere ma delle nostre vite siamo stati così alchimisti quindi questa settimana non lasciarti sfuggire questa occasione una situazione apparentemente scomoda si rivelerà essere una preziosa occasione per riportare in equilibrio il karma ti accorgerai di trovarti in una situazione già vissuta più e più volte affrontala, reagisci e vivila in modo differente dimostra all'universo di aver appreso la lezione oh, vabbè, l'ho scritto io in effetti dimostra all'universo la tua evoluzione il nodo finalmente si allenterà o addirittura si scioglierà mazzetto numero due uno, due e tre allora, che abbiamo qui? abbiamo il segmento allora, questa settimana usa la tecnica del segmento sai come si fa? te la ricordo il segmento è quella tecnica che noi usiamo per interrompere qualcosa ad esempio, sei dentro una telefonata non ne puoi più ti stanno mangiando vivo ti stanno mangiando un orecchio di tutte problematiche, cose eccetera interrompi quindi di scusa, scusa ho un'altra chiamata in arrivo scusa, scusa devo un attimo andare e ti richiamo poi se è lavoro richiami veramente perché non puoi non affrontarla ma la cosa importante è rompere quel flusso energetico perché nel momento in cui ti vai a rimettere il flusso energetico è differente questo può succedere con una telefonata può succedere in casa vedi che magari la conversazione sta prendendo una brutta piega con il partner con i figli con i genitori con chi che sia e vedi che sai perché lo sai che finirete a litigare interrompi e di va bene facciamo una cosa scusa vado un secondo a fare una cosa vado un secondo in bagno nessuno ti potrà dire che non ci puoi andare e torno quando torni finisci di affrontare quello che stavi facendo perché per carità però si è rotto quel flusso che avrebbe portato a quello che sapevi e quindi quando torni puoi iniziare con un altro assetto energetico quindi ricordati la tecnica del segmento perché perché ti servirà per tagliare un patto finalmente sei pronto a sciogliere un patto animico quando noi facciamo patti animi ci sono accordi che facciamo con altre anime al fine di apprendere qualcosa questa settimana se riuscirai a usare la tecnica del segmento in una determinata situazione ti accorgerai che potresti aver sciolto un patto animico i patti animici si possono sciogliere nel momento in cui giungo una conclusione ti faccio una brevissima parentesi di diritto che però in questo caso serve anche i contratti ci sono contratti che durano non lo so tipo no? fino al contratto lavorativo dipendente fino alla pensione il contratto d'affitto 4 più 4 5 più 5 con rinnovo tacito eccetera ma ci sono contratti a termine nel momento in cui si realizza quella cosa per esempio contratti di prestazione tu acquisti non so la riparazione della lavatrice nel momento in cui il tecnico ha finito il contratto si conclude e quindi anche i patti animici nel momento in cui abbiamo appreso la lezione per cui erano stati stipulati si concludono quindi questa settimana hai la possibilità di concludere un patto animico che ti è servito ma che forse e dico forse perché dobbiamo andare a vedere ancora questa carta ecco ora ti dico come puoi scioglierlo se funziona ci credo o funziona se ci credo legge del paradosso quindi sei vicino allo scioglimento ma attenta perché potresti cadere dentro la rete del giullare cosmico sei di fronte all'eterno dilemma se funziona ci credo o funziona se ci credo ti ostini ad opporti alla regola di questa legge sei tu a dover credere fermamente che una cosa vada in un determinato modo affinché ciò avvenga non puoi impuntarti aspettare che sia l'universo a dimostrarti che puoi fidarti di lui questa carta è una chiamata ad avere fiducia in te stessa e nell'universo se tu per primo non ci credi chi ci crederà quindi sì hai risolto questa questione l'hai imparata il fatto può essere sciolto usa la tecnica del segmento vedi dove è il dubbio e toglitelo perché se no non sciogli il fatto numero 3 allora bianco purificazione è la tua parola d'ordine se hai scelto il mazzetto numero 3 hai bisogno di ripulirti un po' energeticamente e fisicamente oltre a un bel bagno puoi farlo proprio con il sale sia il sale grosso dell'Himalaya ma anche il sale da cucina che è biello bianco oppure sale integrale insomma qualunque sale tu usi va bene fatti una bella purificazione mentre passi il sale come scrub più c'era anche uno scrub sul tuo corpo vedi tutte le cellule vecchie di cui non hai più bisogno andare via e togliersi poi vesti in bianco usa un maglione bianco una sciarpa bianca dei guanti bianchi qualunque cosa bianca tu voglia usare usala perché ti aiuterà e anche a livello di letto puoi mettere più lenzuola o insomma tutto il più bianco possibile ti aiuterà ad andare in uno stato di beatitudine di purificazione mangia cibi bianchi quindi bianchi pure le patate insomma giallini chiari latti vegetali mi raccomando e cerca appunto di purificarti il più possibile e mangia tanto liquido quindi la sera per esempio ha una buona norma nelle diete di detox avere una parte grossa del pasto serale in versione liquida quindi una minestra una zuppa una vellutata questa parte e detox oltre che fisico anche mentale fai detox da tutte le persone che ti inquinano se sono familiari passa del tempo anche in meditazione interrompile quando magari stanno andando un po' troppo per la lamentela eccetera insomma tutelati perché hai bisogno di bianco di purezza perché perché devi andare verso la fiducia l'emozione della fiducia devi avere fiducia nel fatto che i tuoi sogni si stanno realizzando se non ti salvaguardi dall'aggressione energetica esterna e non ce la fai a mantenere questa frequenza che è la fiducia la fiducia è una bella frequenza alta ma rischia di essere un po' danneggiata se tutto intorno a te è sfiducia ama tutte le tue imperfezioni quindi tieniti molto lontano da se per esempio persone ti criticano o magari non con cattiveria però non so ci dobbiamo mettere a dieta dovremmo fare sempre sulla mancanza sull'imperfezione hai bisogno di amare le tue imperfezioni così sarai perfetta hai l'opportunità di sposare una causa vincente che è quella di purificarti e di custodire il più possibile la tua frequenza vibrazionale di fiducia che produrrà migliavigliosi effetti nella tua vita per troppo tempo hai cercato di tenere tutto sotto controllo provando a essere perfetta ma dove ti ha portato è giunto il momento di innamorarti di una nuova causa permettiti di essere imperfetta nessuno è perfetto ed è impossibile tenere tutto sotto controllo concediti di sbagliare lasciati andare e stai certa che tutto andrà nel migliore dei modi e tu sarai finalmente libera solo amando le imperfezioni sarai davvero perfetta grazie a tutti